Ancora una sconfitta interna per il casette verdini di Patron Pasquali dopo il Porto Potenza, questa volta è la Pignanese a violare il Nello Crocetti con due gol negli ultimi minuti di gioco, al termine di un match bellissimo, emozionante e con 7 gol. Passiamo subito alla cronaca molto ricca, il primo gol arriva al 42esimo, cross dalla destra, Familume inciampa sul pallone, forse trattenuto da un difensore, ma non fa in tempo nemmeno a protestare che Carboni appoggia la palla in rete, primo tempo con il vantaggio degli ospiti. Nella ripresa subito il casette verdini in avanti, ma il gol di Occhere viene annullato per fuorigioco, al 66esimo numero al limite dell'area del numero 8 Zemrani, che fa fuori un paio di difensori e calibra un assist stupendo sul secondo palo dove arriva ancora Carboni, a cui non rimane che spingere la palla in rete di petto. A questo punto il casette verdini si scuote e la reazione è vehemente, Occhere svetta più alto di tutti al 75esimo e accorcia le distanze, un minuto dopo, ancora un calcio da fermo e ancora un colpo di testa permettono a Baiocco di firmare il pareggio. In transa agonistica i locali trovano anche il sorpasso con Baiocco e che con un altro colpo di testa all'81esimo batte Liuti. Quando ormai il match era incanalato sulla vittoria dei locali, arriva il patatracca all'86esimo, punizione da metà campo, Caracci esce ma non allontana la palla, tiro dal limite di Fammi Lume che attraversa difensori e attaccanti e finisce in rete per il 3-3. Ma non finisce qui ennesimo calcio piazzato, in pieno recupero ed ennesimo colpo di testa e Scarponi a firmare il 3-4 finale. Sentiamo negli spogliatoi i due mister e il presidente Pasquali. A prendere tre gol in cinque minuti su tre palle inattive penso che è proprio il momento, noi veniamo a tre sconfitte, abbiamo fatto un primo tempo attento senza rischiare niente, poi stiamo andando in vattaggio, abbiamo fatto il 2-0 a 13 minuti, 14 minuti alla fine abbiamo subito tre gol incredibili e poi tante volte siamo stati bravi a non mollare, a crederci, ci siamo buttati tutti in avanti, ci siamo messi per assurdo con quattro punti, siamo stati prima fortunati a fare il 3-3 e poi secondo me in modo meritato abbiamo vinto questa partita. Purtroppo sui calci piazzati quest'anno siamo un po' in difficoltà, due palle buttate dentro il cross abbiamo preso due gol dal calcio piazzato, ce l'avevamo recuperato, l'avevamo andato in vantaggio, però se si pensa che, purtroppo abbiamo fatto un errore individuale, se si pensa che non possiamo concedere una punizione nella tre quarti è dura, però dobbiamo migliorare, evidentemente queste sono le cose a migliorare, cercheremo di migliorare anche su questo aspetto. Sicuramente ancora si deve riprendere da questo finale di partita, come abbiamo detto già con gli allenatori, uno dei più incredibili mai visti qui, naturalmente amareggiato per l'andamento, comunque per il proseguo ci sono delle buone basi? Sì, probabilmente sì, insomma i valori ci sono, quindi ce li faremo sicuramente, è chiaro che la partita sembrava vinta e quindi siamo fermati un attimo e abbiamo subito due cose assurdi, però non è questo, c'è stata una buona reazione, abbiamo cercato di prendere quello che abbiamo visto, una buona reazione che ci può far sperare per il futuro. Nonostante l'inizio a rilento, comunque gli obiettivi della società cambiano, sono gli stessi? No, non cambia niente perché noi andiamo avanti con questo gruppo che abbiamo creato per riuscire a fare qualcosa di buono, se non ci riusciamo pazienza, sarà il nostro demerito e faremo la mia colpa a metà campionata e poi anche alla fine.